Leggo l'appello delle 16 associazioni di categoria sindacali e sociali del territorio sulla Roma Pescara mentre sono all'Oz, peraltro appena visitato un cantiere dove si sta costruendo un'importante infrastruttura ferroviaria sotterranea di collegamento in questa città che è considerata di fatto lo snodo della Polonia, di fatti c'è scritto il tunnel che si sta costruendo, è il tunnel che unisce la Polonia e che fa snodo tra nord e sud, tra est e ovest e tra nord e sud passa il corridoio europeo della rete TNT che dal Baltico porta giù all'Adriatico c'è un collegamento diretto tra quello che stiamo facendo oggi, tra il lavoro che stiamo seguendo oggi insieme ad altri presidenti di regioni di diversi paesi d'Europa qui in questo forum economico di Loz è questa infrastruttura che serve a connettere l'Europa e noi stiamo lavorando perché anche l'Abruzzo sia connesso a questa rete TNT. Io accolgo e rilancio l'appello delle associazioni e chiedo alle associazioni e ai sindacati di fare squadra e di sostenere l'azione del governo regionale che ha fatto del completamento, della velocizzazione della Roma Pescara l'obiettivo principale del proprio mandato di governo. Quando quattro anni fa, oltre quattro anni fa, feci questo e dissi questo, ero circondato, diciamocelo onestamente, da molta diffidenza, da tanta perplessità e dal disincanto di chi ormai da parecchi decenni, forse da oltre 50 anni, aveva praticamente rinunciato a questo obiettivo. Non è un caso che io ho posto questo tema in cima all'agenda delle nostre priorità e altri non lo facevano e non lo hanno fatto prima di me. L'amministratore delegato di RFI dell'epoca, Maurizio Gentile, l'allora presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, intorno a un tavolo con il sottoscritto e in tre mesi abbiamo tirato fuori un progetto unitario e condiviso da Pescara fino a Roma sull'intera linea per portare il tragitto che oggi impiega quasi tre ore e mezza in meno di due ore, in un'ora e 59. Velocizzazione della linea con diversi lotti, naturalmente da fare un pezzo alla volta nel corso degli anni, ma con un obiettivo ben preciso. Siamo ormai alla vigilia della gara di appalto dei primi lotti, quelli che da interporto di Manuppello passano per Manuppello e Scafa ed è in corso la procedura di autorizzazione e la chiusura dell'istruttoria sul lotto precedente che da San Giovanni Teatino, dal confine con Pescara, porta fino a Chiediscalo passando per San Buceto a San Giovanni Teatino. In corso sono i lavori del terzo binario del potenziamento del tratto urbano di Pescara, quindi abbiamo già 30-40 chilometri di ferrovia sui circa 200 e poco più complessivi che sono finanziati in corso di realizzazione, in corso di appalto o in chiusura di conferenza dei servizi. Il progetto va avanti e i finanziamenti ci sono. Non è importante, venendo alla questione PNRR, sapere se lo Stato pagherà questa infrastruttura con fondi ordinari di bilancio, con il Fondo Sviluppo e Coesione che nasce appunto per ridurre il divario, per creare la coesione che oggi non c'è, per ridurre il divario delle infrastrutture fra Nord e Sud o con il PNRR. Il governo Conte inserì la Roma Pescara tra gli obiettivi, tra le infrastrutture strategiche nazionali dopo che noi avevamo condiviso quel piano, quel progetto di cui ho parlato e abbiamo finalmente tolto ogni alibi allo Stato e a rete ferroviaria per non investire, come non aveva fatto per decenni, su questa ferrovia. Perché la scusa era quella, non c'era coesione sul territorio, non c'era condivisione del progetto, non c'erano priorità chiare sulle quali indirizzare gli investimenti e quindi gli investimenti finivano altrove. Ora che il progetto è condiviso, le priorità sono chiare, gli obiettivi pure, questa scusa non c'è più, il governo Conte lo mise tra le infrastrutture strategiche e finanziò con 620 milioni solo quella tratta tra Interporto e Scafa. Dico solo quella tratta perché inizialmente, evidentemente con una superficiale valutazione iniziale, il governo pensava di finanziare quattro lotti con 620 milioni. Poi tra questi quattro lotti vi era Avezziano Tagliacozzo, Prato Labeligna, Sulmona e poi questi due di Interporto, Manuppello, Scafa. Non appena RFI ha cominciato a fare il progetto vero, reale, definitivo, insomma a scendere nella scala di dettaglio, si è subito accorta che questi 620 milioni bastavano a malapena per farne due di questi quattro lotti. E dico a malapena perché poi il ministro Giovannini del governo Draghi, attraverso il capo della struttura tecnica di missione, ci chiese di contribuire con 100 milioni del Fondo Sviluppo e Coesione regionale, anticipando la dotazione del ciclo di programmazione 21-27 per poter completare quella parte. Quindi la Regione Abruzzo crede talmente tanto a questo progetto di aver messo anche una parte dei propri fondi regionali per poterlo completare. Ora il tema è solo uno, sapere se entro la scadenza del 2026 quell'otto può essere appaltato, realizzato, completato e collaudato. Questa è la discussione in corso tra Rete Ferroviaria e i vari ministri, compreso il ministro Fitto che ha il compito di coordinare, di sovrintendere la cabina di regia del PNRR e chiede a tutte le stazioni appaltanti notizie sul fatto che possano garantire o meno il raggiungimento dell'obiettivo, perché tutti sappiamo che se poi il cantiere non chiude entro il 2026 quei soldi devono essere restituiti e bisogna andarli a coprire diversamente. Ma in ogni caso l'opera si fa. Entro la fine del mese RFI procederà all'appalto e io spero che questo non soltanto chiuderà la bocca a quelli che agitano in maniera strumentale le polemiche, ma sia l'inizio e dia il volano giusto per reperire i finanziamenti sui quali si è impegnato l'attuale governo per procedere oltre, completare l'opera e andare avanti. Però qualche parola la devo dire anche sulle polemiche e sulle strumentalizzazioni, perché vedere che i partiti che stanno all'opposizione nella regione Abruzzo reclamano per i ritardi o per le difficoltà con cui quest'opera si realizza e non è un'opera facile da realizzare, le difficoltà ci sono e sono anche oggettive da superare. Poi è lo stesso partito, è la stessa coalizione che governa la città di Chieti e va al TAR a fare ricorso contro questa opera e non si possono giocare due parti in commedia. Chi vuole il bene dell'Abruzzo e chi vuole fare la ferrovia Roma-Pescara deve sostenere questo progetto, lo sforzo progettuale che sta mettendo in campo Rete Ferroviaria Italiana, che sta mettendo in campo il Ministero dei Trasporti, che sta mettendo in campo il Governo nazionale e quello regionale e dobbiamo fare squadra tutti insieme, andare in piazza a protestare con chiunque e qualunque cittadino, comitato, ente locale abbia da ridire e ritrovarsi magari ad essere l'unica città oggi che sta esprimendo il no in conferenza dei servizi, perché gli altri comuni, Alanno, Manopello, Scafa, hanno dato parere favorevole all'intesa, hanno ottenuto da RFI miglioramenti e varianti progettuali che miticano l'impatto e che anzi portano anche importanti investimenti sui loro territori per fare sottopassi, cavalcaferrovie, ferrovie, parcheggi, sistemazioni superficiali, piste ciclabili, mitigazione dell'impatto ambientale e acustico, ecco tutte le opere che servono a migliorare la vita del territorio e non si può andare per strada a dire che la ferrovia distrugge la vivibilità dei territori e delle città chiedendo varianti in zone esondabili, lo fanno con l'irresponsabilità di chi non ha capito che cosa è accaduto in Romagna, perché le inondazioni che ci hanno colpito hanno colpito l'Italia dovrebbero insegnare che non si deve sottovalutare il rischio idraulico vicino ai fiumi e che forse RFI aveva ragione di dire che la variante richiesta passa troppo vicino al fiume ed è pericolosa per l'infrastruttura e per le persone e che il progetto di fare il potenziamento e la velocizzazione in affiancamento dove corre attualmente la ferrovia è quello più ragionevole e più diciamo razionale da sviluppare, soprattutto quello che realisticamente si può davvero realizzare. Chi chiede la luna rilanciando la palla sempre a progetti sempre migliori, sempre perfettibili, sempre si può fare di più e di meglio, in realtà vuole bloccare l'opera, produce le condizioni per cui non si farà mai nulla seguendo questa logica e oggi appunto li trovo con mia sorpresa negativa in tribunale a fare ricorso perché sperano che magari un tribunale possa bloccare questo appalto. Io spero e penso che anche a Chieti sappiano ragionare, che anche il sindaco e la maggioranza di Chieti insieme all'opposizione e queste decisioni vanno prese in consiglio comunale, sappiano ragionare sul bene della città e Chieti non può certo pensare che il bene della città non sia quello di avere un treno veloce che ferma nel proprio scalo e che collega da un lato verso Pescara in maniera sempre più frequente e veloce come una metropolitana di superficie, dall'altro verso Sulmona, Avezzano e Roma per connettere anche la città di Chieti e tutto il resto dell'Abruzzo alla capitale e a tutta la rete nazionale. I progetti vanno avanti, l'impegno della Regione è totale e incondizionato e per noi una priorità assoluta e non guarderemo in faccia a nessuno lungo questa strada. Ma io mi sento forte della fiducia che dal Capo del Governo al Ministro dei Trasporti, al Ministro delegato al PNRR e alla coesione, insomma a tutta la squadra che ha delle responsabilità in questo senso, perché sono certo che onoreranno gli impegni e che il lavoro che stiamo facendo vedrà presto la luce in cantieri, in opere e in lavori che cambieranno la vita del nostro territorio. La polemica di chi dice si abbattono soltanto di due, tre o quattro minuti le percorrenze, è una polemica stupida, perché se ogni tratto di 10 o 15 o 20 chilometri si abbatte di due, tre, quattro, cinque minuti la percorrenza, è esattamente il lavoro che dobbiamo fare. Moltiplicando questi lotti fino a completare i 210 chilometri complessivi di ferrovia, si abbatte di un'ora e mezza complessiva la percorrenza e si fa diventare il treno una cosa seria, una cosa utile per i pendolari, per i turisti, per gli uomini d'affari, per le merci che devono collegare i porti dell'Adriatico con quelli del Tirreno. Questo è il lavoro che stiamo facendo, sono certo che le associazioni di categorie e sindacati che hanno lanciato l'allarme sosterranno con forza questa posizione e mi aiuteranno a vincere questa battaglia, spero che anche le forze politiche siano tutte coerenti e unite a difesa dell'Abruzzo per valorizzare il nostro territorio e per portare gli investimenti che servono e che quel progetto di collegare l'Abruzzo al resto dell'Italia e dell'Europa attraverso i corridoi europei che abbiamo ottenuto in questi anni, perché è noto che la rete adriatica è stata inserita nella rete extended core dei corridoi, del network dei corridoi delle infrastrutture di mobilità europee e questo significa anche investimenti importanti sulla linea adriatria che si stanno già sviluppando e progettando e che anzi questo governo ha intenzione di sviluppare in maniera ancora più importante rispetto a quello che con il governo precedente avevamo già ottenuto.